In occasione della giornata della memoria in tutte le classi dei vari ordini dell'istituto Roncalli ad indirizzo musicale che comprende le scuole di Burgio, Caltabellotta, con le frazioni di Sant'Anna, Lucca e Villafranca, si sono svolte una serie di attività volte a ricordare le vittime dell'olocausto. Nei locali della scuola secondaria di Caltabellotta si è tenuto il convegno dal titolo ebrei di Caltabellotta, conoscere e non dimenticare. Studiose intellettuali hanno parlato ai giovani studenti dell'esistenza di una folta comunità ebraica a Caltabellotta. Un'iniziativa che chiude un progetto promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Calogero Cattano e condiviso dall'istituto diretto Davito Ferrantelli, entrambi presenti al seminario. I docenti e gli alunni sono stati impegnati in un percorso alla scoperta della giudecca di Caltabellotta. Grazie ai precedenti studi della professoressa Angela Scandaliato, infatti si sono individuate le mura del quartiere ebraico di Caltabellotta, i resti della sinagoga, le scuole ebraiche e soprattutto i documenti che attestano la nascita di un ebreo converso che prese il nome di Guglielmo Raimondo Moncada I e Flavio Mitridate poi. Personalità poliedrica e misteriosa del rinascimento italiano ed europeo cabbalista, esperto di lingue e addirittura maestro di Pico della Mirandola. La professoressa Giussi Turturici ha moderato il convegno in cui si sono avvicendati il relatore e gli studenti, i quali attraverso letture, poesie, canti e musiche hanno emozionato i presenti. Intervenuta l'insegnante Licia Cardillo di Prima, autrice insieme alla professoressa Angela Scandaliato dei saggi Flavio Mitridate, i tre volti del cabbalista e diaspora di voci. Presente anche l'onorevole Calogero Pumilia, ex sindaco di Caltabellotta, il maestro Vincenzo Mulè, il professore Giuseppe Ferrante, l'assessore alla cultura Livia Grisafi, il consigliere Paola Augello e il presidente del consiglio d'istituto Maria Giuseppina Colletti. In occasione della giornata della memoria anche nella vicina Ribera sono state ricordate le vittime dell'olocausto. Ieri gli studenti dell'istituto Francesco Crispi di Ribera hanno preso parte ad un'iniziativa promossa dalla locale associazione Hauser di concerto con l'Hauser provinciale e in collaborazione con l'istituto scolastico guidato dalla dirigente Antonina Triolo. Per l'occasione i soci dell'associazione di volontariato riberese e gli studenti delle classi terza e quarta B del liceo classico Crispi hanno proposto video e letture a tema. Di rilievo la testimonianza della dottoressa Caterina Sparacino responsabile locale dell'AMPI che si è soffermata sulla drammatica esperienza vissuta dal nonno Calogero Sparacino deportato e poi liberato. Proposto anche un fotorama dedicato al pacifista riberese Giuseppe Ganduscio che ha dedicato gran parte della sua esistenza alla diffusione della pace nel mondo. Nel corso dell'iniziativa intervenuti anche Giovanna Valenti, presidente Hauser-Ribera, Piero Mangione, presidente provinciale Hauser-Agrigento, Antonina Trioro, dirigente del Francesco Crispi e le insegnanti Francesca Scozzari e Giovanna Quartararo.